Questa sera in diretta dal castello Malaspina di Varzi, il GHT farà una conferenza con l'indagine insieme a Nensi, Luca e Mirko che ci sta ripetendo. Che sono qua, eccomi. Quindi mi raccomando, dalle ore 21, tutti in diretta. Su canale YouTube del gruppo. Su canale YouTube, ovviamente. Il GHT, Costante A.T., mi raccomando, seguiteci in tanti perché sarà una diretta entusiasmante. C'è un buon buffet. C'è un buon buffet. Però loro il buffet non lo possono mangiare. No, però lo possono vedere. Guarda, i rimasugli del buffet. Questo è il buffet. Questo è il nostro buffet. Il nostro. Qualche indecisimo ancora vuole venire. Eh, però mi sa che tutto è esaurito, eh. Vabbè, però se si vuole imbucare. Se volete imbucare c'è Barzi in provincia di Padia. Barzi, provincia di Padia, Castello Malaspina. Questa è la sala delle conferenze, guardate che spettacolo. Che spettacolo. Ci vediamo più tardi. Ciao. A dopo. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie.